Giovedì 27 agosto, buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di Fano TV, sul canale 17, come tutte le mattine, sono le 7 in diretta, qui dallo studio di via Paolo Borsellino a Fano, pronti come sempre per la lettura dei titoli delle notizie più importanti che abbiamo selezionato per voi in questa nostra resegna stampa. Allora, partiamo però con ordine, oggi se avete qualche figlio che vi dà qualche pensiero, rivolgetevi a Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino, sicuramente vi darà una mano. 6.28, l'orario in cui è sorto il sole questa mattina, tramonterà, vedete come si accorciano, 19.57, mentre il tempo... Il tempo oggi sarà sereno, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento, domani venerdì 28 ancora cielo sereno, poco nuvoloso, mentre sabato, più o meno stessa cosa, ancora cielo sereno, poco nuvoloso, soffierà un po' di vento, ma comunque la giornata di domenica sarà probabilmente caratterizzata da condizioni di marcata instabilità sui settori interni, con il transito di una struttura frontale durante la prima parte della giornata di lunedì. Insomma, vedremo per domenica, c'è tempo ancora, vediamo nella giornata di domani. Allora, adesso andiamo invece a collegarci con il nostro... Tommy, ce l'abbiamo, Tommy? Sì, eccolo, non ti avevo salutato, buongiorno, prima della diretta. Buongiorno, buongiorno. Allora, come va oggi? Benissimo, oggi Marco mi sono ricordato il fischietto. Oh, abbiamo fischietto, io me l'aspettavo rosso a dire il vero, perché il rosso indica attenzione, invece giallo ce l'hai, come il sole. Sì, sì, ce l'ho giallo, anche giallo comunque, giallo fluorescente è un bel colore per richiamare l'attenzione. È vero, è vero. Allora, oggi come sarà la giornata dal punto di vista meteo marino? Dai, giornata splendida, anche già il mare risulta un pochettino mosso, ma veramente roba da poco, insomma, ci auguriamo una bellissima giornata. Sì, è un po' increspato, dire il vero, però dai, è sempre bello vederlo ed è un piacere aprire la nostra giornata con questa finestra sul mare, che è un po' la finestra sull'infinito, insomma. Bene, grazie Tommy, allora noi ci vediamo domani, buona giornata. Tu hai sentito il terremoto stanotte? No, devo dire la verità. Ti sto dando un'anteprima. La fortuna non l'ho sentito. Perché non era qua. Anzi, andiamo a salutare, e salutiamo, ciao Tommy, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci seguono dalle parti di Fabriano Cerreto Desi. Andiamo sul sito internet di occhioalanotizia.it. La nostra redazione questa mattina ha pubblicato già la notizia che è stata visitata, già eletta da 412 di voi. Allora, una scorsa di terremoto di magnitudo 3.5, come vedete dal nostro sito internet. Andiamo a leggere la notizia. Allora, è un flash, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, è stata registrata a Cerreto Desi, nell'Anconetano. Nella notizia, l'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 5 chilometri da Cerreto, l'ipocentro è una profondità di 6 chilometri. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. Tra l'altro, insomma, a Cerreto ogni tanto qualche scossetta la dà. L'ultimo mi pare era nel mese di aprile, insomma, quindi ogni tanto si svegliano così, di soprassalto. Comunque qua, dalle nostre parti, non mi risulta che sia arrivato in provincia, si sia sentito nulla. Allora, Corriere Adriatico e il resto del Carlino. Cominciamo con il Corriere. Mascherine in classe è il caos. Vedete? Quello che dicevamo nei giorni scorsi, adesso si sta concretizzando. Non si sanno bene le cose perché non è stato ancora deciso nulla. C'è un po' di confusione. Il Governatore Ceriscioli dice sì alle protezioni in aula se non viene assicurato il distanziamento. Il distanziamento, sapete tutti, ormai a memoria che è almeno di un metro. Nelle Marche l'aumento dei contagi è invece molto inferiore rispetto al trend nazionale. Ci sono regioni che, come vedremo tra poco, insomma, non se la stanno passando bene. Perlomeno ci sono aumenti notevoli dei contagi. In frenata anche i ricoveri. Ma il problema, sicuramente in primis riguarderà la scuola, c'è molta attenzione su questa data, il 14 settembre. Ci sono non solo problemi in classe con la questione del distanziamento delle mascherine, ma anche come arrivare a scuola, come far arrivare gli studenti con gli autobus. Dunque c'è il rebus dei trasporti, regola dei 15 minuti, test sui percorsi. Adesso si cominciano a fare un po' di prove per vedere quanto tempo occorre per arrivare, il tragitto. Sapete, sono cambiate un po' le cose e certamente bisogna fare dei test prima di avviare il tutto. A Pesero, per il dividendo Marche Multiservizi, 4 milioni a ERA, 2 milioni al Comune di Pesero. Addio a Ciccio Tausani, il mare e la velocità, le sue grandi passioni. E affano norme anti-Covid più rigorose tra gli ambulanti del mercato cittadino. Mentre sotto chiude il ponte di Via Lamarca per il posizionamento dei giunti. Belloni dice, lavori conclusi in poco più di un giorno, l'intervento risolve il problema delle infiltrazioni. Dunque in arrivo una nuova chiusura del ponte che sta sulla Statale 16 all'ingresso di Pesero. Questa volta però sarà breve la chiusura, 1-2 giorni al massimo, secondo i tempi forniti dal Comune di Pesero, per posizionare quei famosi giunti che serviranno a evitare le infiltrazioni d'acqua. L'obiettivo è fissare questi giunti che dovrebbero risolvere il problema delle infiltrazioni che già si è evidenziato. Mentre il resto del Carlino, la pagina di Pesero, apre anche qui con il caos scuola bus. Ecco mille mezzi. La Confartigianato li mette a disposizione dopo il taglio di posti a bordo per le limitazioni di sicurezza. A centro pagina invece vaccinazioni a tappeto. L'anti-influenzale ai tempi del Covid, ecco cosa cambia. In sostanza cambiano i tempi, bisognerà vaccinarsi almeno un mese prima rispetto all'anno scorso. Folla per l'addio a Prosperi, la città deve dirgli grazie. Siamo sempre a Pesero e poi un altro lutto nel motorismo è morto Tausani. A centro pagina di spalla denuncia, angoli del centro storico di Pesero come latrine, ecco la foto della vergogna. Il Carlino questa mattina pubblica due fotografie di due persone, un uomo e una donna separati in due foto, momenti diversi che fanno pipì praticamente qui in questa stradina, tra l'altro poco lontana dal Conservatorio. Mentre verso le elezioni di fine settembre, Mercorelli, 5 Stelle PD, vi svelo tutti i retroscene. Retroscena di un matrimonio che non c'è mai stato. Neanche un finanziamento, dire il vero. La VL vince l'amichevole con Reggio. A Imola prima uscita del nuovo corso. Le Pesia abbiamo lavorato sodo e dice bravi. Vis invece siamo sul calcio, Farabegoli ha detto sì. L'Alma invece è su Gans. I biancorossi continuano a rafforzare il gruppo, ingranate invece in cerca di un altro nome. Dall'Ascoli, perché c'è questa sinergia con la squadra dell'Ascoli. Ieri abbiamo iniziato anche noi sul nostro canale 17 a trasmettervi alcuni momenti di passaggi festival, la rassegna di libri, che è una delle poche cose che quest'anno si è potuto vedere, perché l'unica manifestazione è rimasta in piedi. Ce ne sarà un'altra, credo, ma non di più. Per il resto non c'è niente. E allora abbiamo trasmesso sia Augas che Oliver Stone, due momenti importanti che racconta il Carlino questa mattina. Stone incanta la piazza con il film della sua vita. Il regista premio Oscar ha raccontato vicende legate al suo lavoro e al suo privato, aprendo in grande stile il festival Passaggi. Dunque un caldo abbraccio della folla per Oliver Stone, accolto con entusiasmo in piazza 20 settembre per la tappa fanese a Passaggi Festival. Ogni giorno, ogni sogno ha qualche fallimento che l'accompagna, ha spiegato il regista ricordando gli esordi, quando non riusciva a trovare un produttore che credesse in lui. Poi nel 76 la sua esperienza di militare nella guerra del Vietnam lo ha ispirato. Immaginavo l'aspetto mitologico, i personaggi mitologici. Gli altri film non rappresentavano quella realtà che avevo vissuto in prima persona, mentre Omero mi faceva pensare al vero senso di quella guerra. Poi racconta ancora, qui vedete la fotografia di Oliver Stone nel palco di Passaggi. I miei primi 40 anni, dice ancora, sono stati fondamentali. Ora a 70 guardo indietro. Ora nel programma, nel programma che entra nel vivo, c'è anche il giudizio universale di Gianluigi Nuzzi in piazza, il nuovo capitolo sui dossier del Vaticano e tanti altri appuntamenti che troverete sul giornale di questa mattina. Poi però, qui sotto invece, c'è un'intervista che il giornale ha realizzato al DJ Linus, il DJ probabilmente il più famoso DJ d'Italia, perché è sulla cresta dell'onda da ormai una quarantina d'anni. Ha iniziato nel 76, lui che poi ha trainato anche il fratello. Insomma, questa sera alle 21.30 sarà al Pincio di Fano per presentare il suo libro intitolato Fino a quando. E c'è un particolare che vi svelo, non vi dico e non vi leggo chiaramente tutta l'intervista, ma sicuramente l'inizio. Sì, perché dice Linus, uno dei motivi per cui ho accettato di venire a Passaggi Festival è che Fano è la città di mia moglie. Carlotta è nata a Riccione, ma sua madre è di Fano, magari ci sta guardando, e la sua famiglia è praticamente fanese. Immagino che avrò un po' di parenti seduti in platea da qualche parte. E dunque stasera alle 21.30 al Pincio si accendono i frettori su Fuori Passaggi Music e Social, con la presentazione del libro Fino a quando, edito da Mondadori di Linus, direttore artistico di Radio DJ e storico conduttore radiofonico. Il cinema tra verità ed emozioni, con Platoon in cima al mondo, racconta sempre Oliver Stone in questa sua testimonianza artistica. E' quasi tutto esaurito, c'era tanta gente, il regista due volte premio Oscar, ha svelato pure le incertezze dell'inizio della sua carriera. E poi sotto invece fiamme nella pineta a Ponte Metauro, vedete le fiamme in questa immagine, tra l'altro tratta, come scrive il giornale da Fano TV, l'intervento dei vigili del fuoco, l'allarme è stato dato dai residenti, era stato dato a fuoco praticamente delle potature del verde che erano rimaste lì e qualcuno evidentemente gli ha dato fuoco. Tutto questo è successo intorno alle 20.30 e le fiamme hanno raggiunto anche un'altezza ragguardevole. Ora, un incendio di questo genere dentro una pineta potete immaginare insomma qual è lo scampato pericolo, insomma la situazione poteva sicuramente essere diversa e degenerare. Intanto dal Carlino di Fano arrivano 60 container nei cortili scolastici all'esterno delle scuole dell'infanzia, si tratta di moduli prefabbricati che serviranno per le operazioni di triage degli alunni delle materne e per delimitare gli spazi verdi esterni. Il triage serve soprattutto ai bambini prima di entrare in classe per la misurazione della febbre con i termoscanner, come vedete in questa immagine. Ne sono stati acquistati con 70.000 euro del bando del Ministero a cui il Comune ha aderito. E questa è l'ultima novità emersa dopo l'incontro di ieri mattina dell'assessore ai servizi educativi Salamuele Mascarin con i dirigenti scolastici e i tecnici dei lavori pubblici. Si sta pensando di scaglionare gli ingressi per consentire anche i trasporti. I moduli prefabbricati saranno anche utilizzati come aule verdi per consentire agli studenti di usufruire tutto l'anno dei giardini che circondano le scuole, quindi al riparo da sole e pioggia e soprattutto nel rispetto delle distanze anti-Covid. Questa è un po' la novità. Poi ci sono novità anche per chi invece la scuola ormai l'ha dimenticata da un pezzo, ma il mercoledì o il sabato, per esempio, a Fano va al mercato settimanale. Dopo la fiera c'è la stretta infatti sul mercato, tornano chiodi, cartelle e catenelle. Sono tutte misure anti-Covid, dunque un giro di vite anche sulle bancarelle dopo la decisione di annullare l'evento dedicato a San Bartolomeo. Tutto questo naturalmente perché sta accadendo? Perché c'è una risalita dei contagi. C'è una risalita dei contagi, cioè la risalita dei contagi, non dimentichiamocelo, sono tutte risaliti questi numeri perché molti hanno deciso di fare comunque le ferie in luoghi poco sicuri e quando sono tornati, Grecia, Croazia eccetera, hanno impestato tutto quanto. E quindi adesso ci ritroviamo con la vita un po' complicata. Insomma, pensavamo di, e invece, ora non è che vogliamo accusare nessuno, cioè questi hanno voluto fare la vacanza e quindi se la sono fatta. Però, purtroppo, adesso queste sono le conseguenze. Verranno installati lungo il percorso, siamo sempre nel mercato di Fano, dei chiodi topografici, quindi disegnati, in piazza 20 settembre per delimitare le misure dei banchi, per rispettare le corrette distanze. Verrà ripristinata la catenella che delimita l'area di prova della merce nelle bancarelle. Verranno ripristinati sensi unici con la fissione dei cartelli. Verrà aumentata l'attenzione da parte della Polizia Locale e degli organi di controllo sull'utilizzo delle mascherine e sull'obbligo di sanificazione delle mani. Quindi, prima di toccare la merce, come si fa di solito, sono scene ormai che si vedono tutte le volte che si va al mercato, gente che prende con le mani, le mette davanti alla faccia, insomma, controlla avanti, dietro, sopra, sotto. Ecco, prima di fare tutto questo bisognerà, come dire, lavarsi, pulirsi le mani con questi gel igienizzanti. Ora, per quanto riguarda l'influenza, invece, ci si vaccina un mese prima, dicevamo, all'inizio della nostra rassegna stampa, e vale anche per i bimbi fino a sei anni. Quindi questa, se vogliamo, è un'altra novità di quest'anno. Al via d'ottobre, dunque, questa massiccia campagna di prevenzione per evitare sovrapposizione con una possibile nuova ondata di pandemia da coronavirus, quasi 40.000 dosi in più, obbligatorie per gli operatori sanitari. Dunque, chi fino all'anno scorso si è vaccinato per l'influenza, quella classica, l'influenza che siamo abituati, insomma, che conosciamo bene, ecco, quest'anno ci sarà probabilmente qualcuno in più da vaccinare, anche i bambini fino a sei anni, e soprattutto si comincia prima. Tutto questo, come abbiamo visto, per evitare una possibile sovrapposizione di situazioni, che speriamo non accada. Però, ecco, meglio prevenire in questo caso. E allora, il vaccino, quando sarà disponibile, e quindi un mese prima, in ottobre, bisognerà iniziare a farlo. Sono per l'area vasta 1, quindi la zona di Pesaro-Urbino, le dosi disponibili si aggirano intorno alle 130.000 unità, quindi 130.000 vaccini, 40% in più rispetto alle 94.000 dell'anno passato, e dice, è bene vaccinarsi il prima possibile in autunno, contro l'influenza e le infezioni da pneumococco, avverte Augusto Liverani, che vedete nella fotografia, direttore del settore igiene, sanità pubblica e prevenzione delle malattie infettive dell'area vasta 1. Ciò permetterà di semplificare le diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dato che influenza e Covid hanno sintomi simili, in certi casi persino sovrapponibili. Quindi se uno che ha fatto il vaccino praticamente prende comunque ai sintomi dell'influenza, avendo fatto il vaccino, evidentemente non è influenza, ma è qualcos'altro. E questo qualcos'altro, ahimè, ha un nome e un cognome che si chiama Covid-19. Quindi anche in questo caso può servire a essere utile. Le categorie a cui l'anti-influenzale è offerta gratuitamente sono sempre le stesse, con alcune importanti novità. Oltre agli ultra 65 anni, ai soggetti di tutta l'età con fattori di rischio, al personale sanitario e delle strutture residenziali, ai lavoratori di servizi di pubblico interesse, si aggiungono da quest'anno i soggetti della fascia 60-64 anni, anche senza patologie croniche. Poi le donne in gravidanza, qualsiasi sia il loro periodo di gestazione. E poi i bambini, i bambini dai 6 mesi fino ai 6 anni. Questo serve a ridurre la circolazione dell'influenza anche tra gli adulti e gli anziani, visto che il serbatoio dei contagi sono soprattutto i più piccoli, insomma coloro che poi infettano. I bambini sono dei trasportatori incredibili, questo lo sapevamo già, l'abbiamo detto sin dall'inizio di questa nostra avventura con il Covid, e i bambini sono dei veicoli incredibili. E allora andiamo a vedere ancora sui giornali, andiamo a Pesaro adesso per i funerali di Prosperi. Sul sagrato del Duomo di Pesaro, come corazzieri, c'erano tre moto, il triciclo degli Ombouton, una Mollaroni e una Benelli, poi tanti amici appassionati di moto, ma anche colleghi medici scesi da Bologna per quest'ultimo saluto a Paolo Prosperi. Un uomo che a Pesaro ha lasciato evidentemente il segno, la nipote di Mollaroni dice un uomo a cui la città deve dire grazie. Poi aveva anche la passione per il basket, questi sono momenti dell'addio a colui che viene chiamato Doctor, come lo chiamavano tutti. Ecco, mentre andiamo sull'altra pagina dei quotidiani, ecco, altro lutto nel mondo dei motori. È morto Ciccio Tausani, sempre a Pesaro, aveva 67 anni e da tempo combatteva contro la SLA, pilota e campione italiano, ha anche corso il Mondiale nella 350, lascia la moglie Claudia e tre figlie. Era nato il 13 marzo come Graziano Rossi, il papà di Valentino, e per anni hanno festeggiato assieme, così raccontano gli amici. Per lui, secondo le sue disposizioni, le sue ultime volontà, solamente una messa, senza annunci funebri, per sua disposizione il corpo poi verrà cremato perché dice lui, insomma, voleva rimanere a casa sua. Emergenza fondi, ai commercianti del centro, siamo nella pagina di Urbino, almeno 1.000 euro a testa. Urbino è stata inserita tra le prime città italiane più visitate dai turisti e danneggiate dalla pandemia. Ci sono buone notizie dunque per le imprese del centro storico della città ducale. A comunicarlo è Egidio Cecchini, segretario della Confcommercio di Urbino. La città è stata inserita nelle 29 realtà di città d'arte alle quali sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto per compensare la diminuzione dei ricavi a causa dell'emergenza coronavirus. Questo è valido per tutte le attività economiche presenti in centro ad Urbino e la città pesarese è l'unica città marchigiana ad averne diritto. Il contributo parte da un minimo di 1.000 euro e questa opportunità però purtroppo non è disponibile per imprese con sede fuori il centro storico cittadino e qualcuno probabilmente storcerà il naso. PD e il caso cancellieri invece dicono se ne va per i guai, le sue dimissioni da Presidente di Urbino Servizi dimostrano come sia più interessato a sé che al futuro della società. Sapete che è in corsa per un posto da consigliere regionale. Questo l'abbiamo già visto, chiude il ponte di Via Lamarca quindi andiamo avanti. Mascherine in classe, le marche votano sì se non c'è sicurezza. La conferenza Stato-Regioni sul rientro a scuola non scioglie i dubbi sul caso. Governatore Divisi, Ceriscioli dice serve prudenza e attenzione. Oggi intanto c'è un altro vertice. A destra vedete caos trasporti, il piano B della Regione, no ai distanziamenti, ok alle protezioni. Il Presidente dice è l'unica strada per assicurare a tutti gli studenti il servizio autobus. Chiudiamo facendo un po' il punto della situazione sul Covid nella nostra Regione. Le marche abbiamo detto vanno meglio della media nazionale. I ricoveri Covid frenano ancora. L'aumento giornaliero dei contagi è nettamente inferiore al tren nazionale. Ieri abbiamo registrato nove casi, tra l'altro nella provincia di Piesa Urbino nemmeno uno, quindi zero. Quattro a rientro dalle vacanze. I pazienti in ospedale sono scesi da 14 invece a 9. Nessuno in terapia intensiva, lo ricordiamo. Diminuiscono anche i positivi in isolamento, le infezioni in corso. Allora, nel Piceno, sette casi in un gruppo di diciottenni ritornati da un'isola greca. A Civitanova due positivi dopo il viaggio in una nave dalla Sardegna. Ora, una ragazza, vieni qua, una ragazza di San Benedetto si è scoperta positiva di rientro da una vacanza in Costa Azzurra, mentre si allarga nel Piceno il cluster alimentato da una vacanza nell'isola greca di Corfu, fatta da un gruppo di amici poco più che diciottenni. E poi ancora sul giornale di questa mattina come sempre c'è una pagina dedicata proprio a tutta la situazione numero per numero, minuto per minuto sull'andamento del Covid, dell'epidemia nella nostra regione. Allora, non so se Riccardo intanto il nostro regista si è informato come gli avevo chiesto prima di andare in onda sugli appuntamenti di oggi di Passaggi Festival qui su Fano TV, visto che lui gestisce anche il palinsesto sei in grado di darci qualche... Sì, alle 19 trasmetteremo Gianluigi Nuzzi quindi... Alle 19? Esatto. In diretta quindi siamo? Sì, dopo dipende dai ritardi perché anche ad esempio ieri abbiamo avuto dei ritardi con l'organizzazione e alle 21 abbiamo Nadia Urbinati riflessione sui populismi. Riflessione sui populismi, alle ore 21 sempre in diretta ma abbiamo anche Linus? Essendo al Pincio non lo so bisogna vedere un attimo... Dobbiamo organizzarla allora te lo dico in questo momento in diretta dobbiamo organizzarla perché allora a questo punto spostiamo la troupe dalla piazza se è possibile oppure ne mandiamo un'altra al Pincio quindi avete sentito anche un po' il dietro le quinte. Grazie per averci seguito noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia e come sempre in fondo alla sigla ci sono i riferimenti per seguirci sui social e anche il numero di telefono ma lo vedete anche qui sotto per collaborare con la nostra redazione come con le vostre segnalazioni che per noi sono fondamentali e preziosissime ci date una grande mano anche perché non è la RAI come dicevo a qualcuno e quindi facciamo del nostro meglio per assicurarvi ogni sera l'informazione precisa e puntuale buona giornata a tutti